salve sono antonio allegra e vi presento il corso in filosofia delle digital humanities che tengo presso il corso in digital humanities per l'italiano e il tema di una possibile filosofia delle digital humanities è a tempo stesso estremamente urgente e per certi versi tuttavia ancora in parte inesplorato che se volete particolarmente stimolante in realtà è un tema urgente perché ovviamente il modo in cui la tradizione umanistica entra in contatto si contamina per certi versi entra anche in discussione rispetto alla trasformazione digitale che è in corso e in corso anche prima dell'emergenza legata al coronavirus che è rappresentato un momento in cui come dire gli strumenti digitali sono diventati pane quotidiano per quasi tutti noi ma è una trasformazione molto più antica risale per lo meno una ventina o trentina d'anni e a questo punto ormai è sicuramente in fase di accelerazione come dire esponenziale al tempo stesso però questo rapporto con la tradizione umanistica è ancora relativamente inesplorato perché esiste forse una certa pigrizia ancora una certa diffidenza una certa difficoltà a ragionare rispetto a ciò che sembra così diverso lontano dai strumenti dai linguaggi tradizionali della tradizione umanistica tuttavia il tema ormai è consolidato tuttavia esiste ormai una disciplina una diciamo uno spettro una serie di discipline che gravitano attorno al tema delle digital humanities non è un caso un termine plurale quello che viene adoperato e quindi esistono varie piste possibili di approfondimento da un punto di vista teorico l'esigenza che viene messa in campo quindi è proprio quella di una filosofia delle digital humanities che cerchi di ragionare filosoficamente quindi su entrambi i poli di questo presso di questo diciamo lessico no perché sono poli che tra di loro spesso sono stati oggettivamente contrastanti come qualcuno ha osservato si tratta tutto sommato di una riedizione che però costringe al ripensamento della dialettica tra le due culture quella scientifica e quella umanistica quella diciamo legata a una certa tradizione tipicamente italiana e quindi questa tradizione fa parte del dna dello specifico della nostra università che nasce per far riconoscere la cultura italiana oltre che la lingua italiana da un lato e dell'altra parte invece una cultura che in italia ha avuto certamente un suo ruolo anche importante almeno in certi fasi però fa meno parte fa molto meno parte indubbiamente dell'autobiografia della nazione del modo in cui gli italiani interpretano e intendono se stessi vale a dire scienza tecnica modernizzazione non uno sguardo rivolto al passato se volete ma attento a quello che il futuro comincia a significare io credo che al contrario ragionare sull'interrelazione tra questi due poli ambiti sia estremamente urgente naturalmente non è solo un problema italiano anche se ho cercato di metterla in termini nazionali per renderlo forse più comprensibile è un problema che dipende da codici da lessici diversi che in qualche modo quindi è un problema che si ripresenta in vari contesti culturali si ripresenta come tale in effetti ma oggi questo problema richiede un ripensamento totale perché ormai l'umanesimo senza questa veste o questa sua stessa versione di tipo digitale rischia di restare un discorso fondamentalmente riservato a pochi o a pochissimi in effetti se noi guardiamo storicamente il rapporto tra tecnologia e umanesimo a di là di quello che in prima battuta sembra essere una storia di opposizione o discontinuità o differenza chiamiamola come vogliamo in termini più o meno radicali tra questi due ambiti in realtà esiste una dialettica molto più ricca e molto più sfumata dal punto di vista così di una rapidissima sintesi di quello che cercheremo di dire nel corso una tesi fondamentale credo facilmente dimostrabile anche se naturalmente forse non immediatamente intuitiva è che la tecnologia in realtà aiuta a costituire l'uomo vale a dire tecnologia e uomo e tecnologia e umanesimo non sono necessariamente dalla stessa parte però indubbiamente se la tecnologia realmente nasce dal rapporto dell'uomo con il mondo dalla presenza dell'uomo nel mondo è chiaro che non esiste una opposizione radicale e sostanziale come quella che qualche volta anche a causa appunto del linguaggio delle due culture delle culture differente con codici differenti tendiamo a pensare al tempo stesso tuttavia questa radice umanistica della tecnologia non può come dire farci dimenticare che la trasformazione tecnologica in corso appunto la trasformazione digitale virtuale in corso rischia anche se volete usare un termine un po preoccupato di trasformare in profondità l'uomo no? facendone ciò che nel linguaggio filosofico e non solo contemporaneo ormai è un lessico molto divulgato molto presente nel dibattito culturale viene chiamato trans opposto umano cioè l'idea evidentemente come dice il lessico stesso che l'uomo si prepari a diventare qualcosa di molto diverso che può essere intese in un senso oppure in un altro trans opposto umano sono come dire accezioni un po' differenti di un'idea però fondamentale che è la stessa il fatto che l'uomo sta arrivando alla sua fine forse addirittura deve arrivare a una fine e quindi a un passaggio a qualcosa di completamente diverso e di questo passaggio proprio la tecnologia è forse il fattore principale secondo alcuni teorici secondo direi la maggior parte dei teorici perché però dicevo che la tecnologia appartiene alla storia dell'uomo forse anche questa breve esposizione di pochi minuti può contenere al suo interno un cenno in questa direzione anche se ripeto può essere solo un cenno perché è una posizione che ripeto forse non è immediatamente chiara immediatamente convincente ma basta riflettere un attimo per rendersi conto che il rapporto dell'uomo con il mondo è mediato dalla tecnologia fin dall'inizio l'uomo sopravvive nel mondo grazie alla trasformazione tecnologica che inserisce nel mondo che trasforma innettamente il mondo è il fuoco ovviamente la ruota la costruzione delle città l'agricoltura l'agricoltura non è l'accettazione della natura così com'è è al contrario l'osservazione intelligente la trasformazione di conseguenza della natura ai fini della sopravvivenza umana facendo un piccolo passo più in profondità potremmo renderci conto che il linguaggio stesso è una tecnologia in questo senso la tecnologia forse più importante di tutte perché permette la trasmissione dei contenuti culturali delle informazioni sul mondo in maniera che si sedimenta nel corso del tempo e che evita ad ogni nuova generazione di dover riscoprire sempre l'acqua calda di dover riscoprire la ruota potremmo dire il linguaggio non esiste in natura in un certo senso capiamoci bene in maniera molto sintetica il linguaggio è qualcosa di umano che rispetto a quello che è possibile nella comunicazione animale rappresenta un salto di qualità fondamentale l'inizio della trasformazione umana del mondo per quanto riguarda poi più in particolare le digital humanities potremmo osservare che i mezzi di comunicazione e oggi in particolare le rivoluzioni digitale in corso trasformano i connotati dell'antropologia corrispondente dell'antropologia che corrisponde a una certa cronologia della comunicazione il linguaggio appunto la parola e poi la rivoluzione della scrittura scrittura e oralità il passaggio dall'oralità alla scrittura poi la stampa poi la diffusione dei media o media se volete e poi la rivoluzione di internet in che modo cambia progressivamente il profilo dell'umano se cambia come credo che cambi vi anticipo qualcosa su quello che cercherò di sostenere perché cambia la modalità di comunicazione questo non è qualcosa di neutro qualcosa che in qualche modo si limita a canalizzare dei contenuti sempre identici al contrario contribuisce a cambiare il modo in cui gli uomini decodificano il mondo allora c'è una letteratura su questo non inventiamo nulla ci sono classici come McLuhan ovviamente un bel libro di una storica sulla trasformazione della stampa Elisabeth Einstein un classic anche questo ci sono i saggi interessanti di uno studioso vivente che si chiama Morozov sulla trasformazione antropologica ripeto ancora legata alla tecnologia digitale ma molto alto potrà essere detto insomma l'obiettivo fondamentale del corso sarà di tracciare un profilo delle immagini dell'uomo in corrispondenza delle trasformazioni tecnologiche tenendo conto del fatto che l'uomo parte come animale che trasforma il mondo e queste trasformazioni poi hanno un feedback su di lui naturalmente ci concentreremo sulle trasformazioni che sono oggi in corso che sono particolarmente stimolanti e interessanti perché sono gigantesche c'è infine un ultimo punto che vorrei sottolineare credo utile per capire quella che a mio avviso è l'importanza e l'interesse di un corso del genere esiste appunto in relazione a quello che accennava all'inizio vale a dire la tradizione italiana non nazionale dell'umanesimo dell'umanesimo come autobiografia quasi della nazione italiana esiste naturalmente un'interessante compresenza nello stesso cuore dell'umanesimo di una dimensione tecnica o prototecnica vale a dire che oltre ai grandi artisti oltre alla letteratura oltre alla retorica oltre alla riflessione politica in autori come Alberti come Pico come Machiavelli come ovviamente Galileo esiste tutta una ricca panoplia di spunti un ricco bagaglio di spunti dove la capacità dell'uomo di essere al centro del mondo dell'universo si riverberà anche nella sua capacità di trasformare questo mondo questo universo sono temi anche di Bacone per citare un autore non italiano ma che appartiene comunque a quello sfondo culturale umanistico e post umanistico con varianti naturalmente significative perché siamo in un contesto che poi darà vita a quell'inglese darà vita alla rivoluzione industriale quindi c'è tutta una storia differente che poi prende un sentiero differente da quello italiano e tuttavia tutto questo allo stato nascente presente anche nella tradizione dell'umanesimo classico stesso dell'umanesimo italiano allora credo che si possa veramente affermare che la storia dell'umanesimo e la storia della tecnologia in particolare della tecnologia digitale contemporanea è tutt'altro che una storia di contrapposizioni banali e merita una attenzione rinnovata anche se ripeto e concludo su questo tono esiste indubbiamente oggi se vogliamo essere un po' drastici una minaccia della tecnologia un'ipotesi di trasformazione radicale dell'uomo almeno come l'abbiamo finora conosciuto grazie 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 grazie